Il repertorio della musica liturgica oggi, è necessario rinnovarlo o ritornare alla tradizione? La musica liturgica, soprattutto quella italiana, ha un repertorio veramente molto ampio, vasto per tutti i gusti. La cosa importante è scegliere qualcosa che rimanga comunque fedele al canto liturgico, perché poi ci sono i canti sacri e i canti non sacri che vengono purtroppo introdotti durante le messe, contravvenendo a quelle che sono le raccomandazioni del vicariato. Portare delle innovazioni, purché ancorate alla vera liturgia, alla musica sacra, rispetto delle regole della musica sacra, è senz'altro una cosa auspicabile. Noi con questo brano siamo riusciti a trovare questo giusto compromesso, in cui cerchiamo di portare una nuova riflessione davanti a tutte quante le persone che partecipano alla messa, togliendo insomma quello che sono le vecchie canzoni, ma non eliminandole completamente. Si possono rivedere, si possono rielaborare a più voci, con nuove sonorità, ma comunque bisogna rimanere ancora di quello che noi pensiamo, rimanere saldi su quello che sono le regole della musica sacra nella liturgia. Allora, sicuramente il ripetorio liturgico è importantissimo, proprio perché il coro nasce accanto a questa chiesa polacca, cattolica, cristiana, e quindi è la base, il fondamento penso. La sua Martina è una persona che ha una visione aperta, quindi alle bambine le insegna tanto, non solo i canti cattolici liturgici, ma anche dei autori polacchi, moderni, o anche dei brani della scuola, appartenenti alla scuola, ha un ampio spettro di musica, non solo limitato alla liturgia, alla chiesa. Allora, per quanto mi riguarda io credo che ci sia bisogno del giusto equilibrio, nel senso che è vero che i brani moderni attraggono, perché magari sono più fruibili, però anche i brani tradizionali hanno il loro fascino e la loro storia, quindi secondo me il connubio ideale è l'alternarsi fra un repertorio un pochino più classico e un repertorio moderno. Poi ovviamente dipende anche dall'occasione, dal perché stiamo cantando, in che cosa stiamo cantando, però non stravolgere totalmente i brani e dimenticarsi del passato, ma neanche riproporre sempre, diciamo, un certo repertorio tradizionale. Secondo me l'alternarsi è la via più giusta e la via ideale. Il problema del repertorio liturgico di questi giorni è che è rimasto molto legato alla musica degli anni Ottanta, post Concilio Vaticano II, e questo ha comportato un progressivo distaccamento dalla sensibilità contemporanea ai brani che effettivamente si portano in chiesa. Accanto a questo si è assistito a un proliferare di musica, purtroppo spesso di bassa qualità, che ha portato a uno scadere della qualità della musica liturgica. Detto questo, non vuol dire scegliere per forza una musica impegnata, polifonica, ma comunque trovare musica che sia di qualità e attuale. Tutte e due. Secondo me è importante, come in tutte le cose, non si può assolutamente cancellare il passato, quindi canti classici sicuramente, però canti anche nuovi, insomma, per accontentare un po' tutti, anche all'interno di un coro, le diverse realtà e le diverse età, e quindi è importante fare un po' tutto, sia la musica passata, ripeto, non cancellare assolutamente niente del passato, però anche qualcosa di nuovo per invogliare, per portare novità, quindi bisogna sempre cercare di fare tante cose all'interno, un bel repertorio misto sicuramente. Praticamente ci vorrebbe una via di mezzo, la tradizione è importantissima, anche Papa Francesco ce l'ha ricordato, il canto gregoriano, il classico certo va sempre, è molto importante, però bisogna anche stare, diciamo, attenti alle novità e anche a livello, se uno canta in inglese, in francese, cioè quelle liturgie che ci sembra opportuna, e anche perché, diciamo, Roma essendo multiculturale, multiraziale, voglio dire, fa piacere anche sentire un canto di un'altra lingua, e quindi sia il classico, sia il moderno. Sicuramente è meglio rinnovarlo, anche se la tradizione naturalmente è importante, sulla tradizione si basa naturalmente la storia di tutta, insomma, la musica, per cui comunque sì, va bene la tradizione, ma sarebbe anche fondamentale un rinnovamento.